Buonasera a tutti, in questa situazione che mi circonda io posso essenzialmente fare il vigile urbano, ma di quei vigili urbani del film Così parlo a bella vista, cioè di quel vigile che era dentro il bar, entra un povero automobilista con un traffico bestiale fuori e si rivolge al vigile e dice ma lei vede che traffico che ci sta e quello risponde non me ne parlate, di conseguenza io vorrei fare il vero vigile urbano e mi prenderò solo qualche minuto per introdurre questa giornata che trae spunto dalla presentazione del manuale delle società pubbliche e dal libro del diritto dell'anno 2018 della Treccanima che ovviamente tocca temi molto delicati. Ora l'impostazione di questo manuale risponde evidentemente alla volontà credo comune innanzitutto di due curatori, che nomino va altrimenti Roberto Garofoli e Andrea Zoppini, di offrire a studiosi di offrire uno strumento di comprensione immediato e utile per chi voglia capire in concreto come funziona questo mondo molto complesso delle società cosiddette pubbliche, un mondo anche molto variegato, però anche uno strumento in grado di indagare gli aspetti più specifici e problematici di questa materia senza rinunciare a inquadrare gli istituti e il fenomeno in una cornice di tipo sistematico. Il fatto che sia stato fatto un manuale delle società a partecipazione pubblica denota credo anche la rilevanza, non so se anche una certa autonomia scientifica, che il settore delle società pubbliche che è un po' sospeso tra i vari rami del diritto, il commerciale e l'amministrativo sono evidenti ma ci sono anche altre implicazioni, è andato assumendo. E credo che sia sintomatica di questa rilevanza anche l'interesse della dottrina più recente al dibattito sulle società pubbliche come testimoniato tra l'altro dal fatto che uno dei saggi specifici del libro 2018 è stato affidato a Pino Caia che è un noto conoscitore esperto di questa materia e quindi è uno dei saggi del libro dell'anno Treccani del 2018. Quali sono le cause di questa progressiva emersione di questo mondo nello specifico giuridico, senza dubbio profili di natura finanziaria e di per lo più cattiva gestione di queste società, specie se in capo agli enti locali. Però non dimentichiamo che il tema interseca anche dei temi tradizionali del diritto pubblico dell'economia connaturati e legati allo stesso fenomeno dell'intervento pubblico nell'economia e che nel corso del novecento ha sicuramente interessato la scienza giust pubblicistica non solo ma specificamente italiana e vorrei anche ricordare che le problematiche di teoria generale lambite da questo tema sono molte rilevanti e semplifico soltanto penso all'uso del modello societario e in genere degli strumenti privatistici ad opera della pubblica amministrazione e alla problematica del regime derogatorio speciale o come lo vogliamo chiamare loro riconosciuto rispetto al diritto comune oppure che so le peculiarità del regime della crisi d'impresa anche sotto il profilo del trattamento assistenziale dei lavoratori. E poi resta sullo sfondo il dilemma mai risolto forse nemmeno risolvibile, io ricordo un vecchio libro per il professore Amato, sul ruolo che le società pubbliche e in genere sul ruolo dell'intervento del pubblico nell'economia. L'attuale disciplina di società a partecipazione pubblica sappiamo tutti è stato ripensato dal decreto legislativo 175 emanato con l'intento di mettere ordine in una materia molto disordinata e disarticolata. Il ricorso sempre più frequente a questo strumento societario disarticolato in diverse tipologie partecipative perché ovviamente non esiste un modello di società pubblica, probabilmente anche sbagliato scientificamente il termine società pubblica. E' stato oggetto di innumerevoli interventi legislativi sempre a carattere speciale che pur incidentando sulla disciplina di diritto comune lo hanno fatto quasi sempre in maniera molto frammentaria. Quindi acquendo quei margini di incertezza interpretativa e conseguentemente applicativa che ha caratterizzato non da oggi questo settore. Penso poi dopo il diritto europeo ci ha messo un po' la sua perché per esempio il modello dell'in-house providing che la Corte ci ha più di recente consegnato è un modello non facile da coniugare con l'assetto nostro normativo. Il manuale ripercorre quindi un po' il filologico credo che caratterizza la nuova disciplina di riordino. Fornisce uno sguardo d'insieme e sono significativi i primi quattro generali di Mattarella, Napolitano, Zoppini e Bruzzone che seguono la prefazione di Roberto Garofoli. In questi saggi vengono analizzati diversi modelli di lettura della stessa nozione di società pubblica, le caratteristiche del fenomeno impresa collegato alla società e del relativo controllo da parte del soggetto pubblico, le linee guide dell'Ocse, le regole europee. Quindi diciamo che c'è sicuramente una presentazione di ampio respiro nel manuale che poi introduce ai temi più specifici che vengono trattati nella seconda parte. Credo che questo abbia anche, come dire, in qualche modo imposto, abbia guidato la scelta dei curatori nella scelta dei soggetti, degli studiosi che hanno partecipato a questo manuale, persone che hanno vissuto o che vivono in prima persona da avvocati, da studiosi, comunque da persone che hanno conosciuto e conoscono profondamente questo settore. E così si spazia, direi, dagli ambiti di applicazione della normativa del decreto legislativo 175, alla posizione del socio pubblico, al rapporto tra interesse sociale e interesse pubblico, come l'interesse pubblico si sposa e viene calato nell'interesse sociale. Il manuale di taglio pratico senza rinunciare alla sistematica. In un settore così disarticolato e direi anche in una fase del diritto molto disarticolata, forse è difficile ed è anche inutile essere dogmatici, ammesso che essere dogmatici sia utile qualche volta. Quello però cui io credo che un giurista non può rinunciare, salvo a fare un altro mestiere, è il valore ordinante del diritto, cioè la capacità di conoscere le esigenze che il diritto e solo il diritto può regolare o può anche scegliere di non regolare evidentemente, perché anche quella è una scelta. Oggi come non mai in realtà serve un giurista che non sia un semplice segeta? Direbbe Sabino che non è mai servito un giurista semplice segeta, quindi già me lo sentivo nelle orecchie. E nemmeno un giurista ingabbiato nelle idee dogmatiche. Se siamo in crisi probabilmente serve un giurista che sia capace di leggere oltre la crisi per poter in qualche modo capire, orientare le scelte legislative, allo stesso tempo applicare con intelligenza quelle scelte legislative in un sistema normativo che oggettivamente e non sempre patologicamente è sempre più caotico. Proprio per questo direi che l'occasione che ci è stata offerta stasera sia un'ottima occasione per discutere dei libri e per toccare però ovviamente questi temi più generali. Noi direi che essendoci ripromessi di finire intorno alle 19 possiamo parlare secondo l'ordine della locandina e darci tra i 10 e i 15 minuti con compensazioni interne e quindi darei... Perché si applica la legge elettorale? No, no, si applicano le stanze di compensazione per stavendo in clearing e qua siamo in un altro contesto. Ma si può sempre sperare che poi quell'altro... Bene, quindi i primi... Direi che non può che essere il professor Amato il primo a parlare. L'assenza di abaco. Mi pare. Beh, intanto... Scusate la voce l'ho persa in una lunga giornata seminariale. Intanto mi fa piacere di vedere tanti amici e amiche qua che in realtà sono venute non per noi ma per gli autori che lo meritano. E quindi questo è un omage a due esponenti dell'alfabetismo giuridico nella speranza che rimanga come una disciplina coltivata che sono stimati da molti per molte ragioni ed è giusto quindi che questo abbia un momento come questo di riconoscimento ed è giusto che abbia luogo alla Treccani dove in particolare il Garofoli Roberto è stato con me al lavoro sulla costruzione del libro annuale del diritto della Treccani che a mio avviso, perché io l'ho pensato meritoriamente, sostituì l'enciclopedia del diritto che essendo aggiornata come tutti i prodotti cartacei ogni tanto poteva indurre il giovane inesperto che la leggeva a ritenere come mi capitò che il comitato interministeriale prezzi ancora esistesse e fissasse i prezzi cosa che un libro annuale evita e che l'enciclopedia online ha cancellato. Lui è qua giustamente celebrato alla Treccani. Meritano di essere apprezzati i due curatori e anche gli autori, devo dire, dei singoli capitoli persone di alta qualità che danno dei contributi specifici che merita leggere. è un libro a finalità pratica, ha detto Filippo, però è veramente costruito come il manuale di una volta nel quale non avete soltanto le nozioni che servono per fare gli atti ma avete l'inquadramento della materia che avviene ad opera dei capitoli iniziali, come già Filippo ha detto. Io spenderei i miei pochi minuti sulla sensazione di smarrimento che suscita in uno come me leggere i capitoli generali che effettivamente e giustamente definiscono il quadro di questa attuale disciplina. Io mi immagino di essere uno che ha vissuto le stagioni che ho vissuto io a proposito dello Stato azionista e del Stato che interviene nell'economia che poi è stato in un freezer per alcuni anni e viene svegliato ora e si ritrova davanti a questo manuale e al decreto 175. Non riesce a capire che cosa è successo, che cosa ha fatto sì che le priorità che vengono indicate per prime nella disciplina dell'azionariato pubblico sono quelle che emergono qua. Io risalgo all'epoca in cui l'azionariato pubblico, ora sono a tecnico e prescindo dalla forma societaria in senso specifico ma che insomma l'azionariato pubblico significava Senigallia che inventava un piano siderurgico attuando il quale l'industria italiana ridiventava improvvisamente capace di competere sui mercati occidentali dove si trovò ad operare a partire dall'immediato dopoguerra e quindi quell'intervento pubblico che permette in realtà alla stessa economia privata di prendere quota e di eliminare tante di quelle diseconomie esterne che l'avevano resa in precedenza piccola e marginale la grande stagione dell'IRI mi ricorda l'azionariato pubblico in Grico Mattei che non solo si sforza di fornire all'Italia l'energia le fonti energetiche di cui ha bisogno ma addirittura di modificare l'assetto mondiale dell'approvvigionamento da parte dei paesi sviluppati e così costruisce questa cosa nascita di una classe dirigente l'ENI crea una classe dirigente e l'IRI rimarrà a lungo scuola di personale pubblico io mi ricordo questo e quindi le società a partecipazione pubblica mi ricordano i grandi compiti che lo Stato può assolvere ai fini dello sviluppo economico poi però ho vissuto anche un'altra stagione ed è quella in cui mi trovai io a trasformare dalla sera alla mattina enti pubblici in società per azioni perché non era vero che lo si faceva in quel momento per battere cassa perché in realtà quando l'IRI venne trasformato in società per azioni era nella condizione di dover portare i libri in tribunale e quindi c'era casomai una preferenza a non trasformarlo perché la disciplina contabile dell'ente pubblico continuasse a coprire le debolezze del bilancio dell'IRI in realtà la ragione principale fu troncare la presenza partitica all'interno della gestione degli enti pubblici economici ma lo si fece con la convinzione e l'aspettativa che trasformandoli gli enti che erano rimasti pubblici in società per azioni questo attraverso la disciplina civilistica fosse un antidoto sufficiente ai mali ai quali si dovette porre rimedio e l'intervento pubblico attraverso le società continuò ad essere quello che ci aveva insegnato Guarino al suo tempo esistono due modalità organizzative dell'azione pubblica nell'economia una è quella attraverso assetti pubblicistici un'altra è quella attraverso assetti privatistici comporteranno conseguenze diverse ma è un apprezzamento dei governi e dei legislatori quello di scegliere in relazione a quali finalità a quali azioni a quali interazioni con mercati ed altri interlocutori è bene avere l'una o l'altra forma e ci accorgemmo rapidamente in quegli stessi anni che in un mercato europeo integrato nel quale si stava formando un sistema bancario cross border avere banche enti pubblici le handicappava rispetto alle banche società per azioni e quindi andammo verso quello quindi io ho vissuto stagioni nelle quali al centro delle società partecipazione pubblica c'è l'attività economica c'è la politica economica c'è la politica industriale e non ho vissuto perché sono anzianotto ma l'inizio del novecento era al di là della mia portata di vita non ho vissuto la stagione della nascita delle municipalizzate che è la nascita dei servizi pubblici del gas, dell'acqua, della luce, del latte portati attraverso il servizio pubblico ora mi trovo davanti a questo manuale di questo non c'è praticamente nulla quello che capisco è che per costituire una società pubblica occorre un decreto del Presidente del Consiglio una delibera del Consiglio dei Ministri che non so a che maggioranza deve essere una motivazione analitica scritta nell'articolo 5 del decreto 175 che è lunga, mezza, non la motivazione la descrizione, la norma sulla motivazione quindi figuriamoci la motivazione che deve essere amministrata da qualcuno ma solo da uno non ci può essere un consiglio di amministrazione ma ci deve essere uno solo che il controllo deve essere duplice non bastano gli ordinari organismi di controllo interno ma ci vuole anche qualcos'altro e che vanno aboliti quelli che non servono in particolare quelli in cui il numero degli amministratori supera il numero dei dipendenti allora io ho detto ma in che paese mi sono svegliato ma cos'è successo in questo paese noi credevamo di avere eliminato i guai maggiori nel 92 e mi ricordo ci domandavamo con Ciampi sarà una fase transitoria la nostra perché siamo uccelli diversi dallo stormo e tutto tornerà come prima oppure insomma non è manco tornato come prima è diventato ecco io io mi devo fermare qua perché sono talmente sconcertato che non capisco esattamente di che cosa si parla e quindi se gli autori avranno modo di spiegarmelo chiederò a loro di dirmi ma queste società partecipazione pubblica che fanno a che servono perché gli dedicate tante pagine se poi devono avere un solo amministratore se per farle ci vuole una motivazione insomma qualcosa di terribile deve essere accaduto e voi avete l'onere di spiegarlo professore Amato prima mi ha fatto fare un tuffo nel passato alla mia tesi sulle partecipazioni statali che più o meno era quella dopodiché però mi ha di nuovo gettato sono uno sconforto totale per cui per ora passo la parola al collega Cantone sperando che come dire almeno lui ci abbia capito qualcosa cosa potrebbe lui qualcosa c'entra grazie grazie Filippo grazie soprattutto dell'invito per poter parlare di un tema particolarmente rilevante comincio proprio raccogliendo quello che diceva il presidente Amato con una battuta su che cosa sono le società pubbliche lei dice voleva sapere cosa erano diventate le società pubbliche io le riporto una frase di Luca Cordero di Montezemolo quando era presidente di Confindustria ebbe a dichiarare lo scritto testuali le migliaia di società in controllo pubblico sono le uniche discariche che funzionano in questo paese sono le discariche per politici trombati ora ovviamente era un'affermazione eccessiva e un'affermazione diciamo probabilmente quasi a livello di battuta ma è evidente che dal 1990 in poi da quando le partecipazioni statali si sono trasformate in qualcosa di completamente diverso e quando è cresciuto il livello delle società pubbliche di carattere locale si sono creati meccanismi di abuso dell'utilizzo della società pubblica meccanismi di abuso che hanno fatto ritenere indispensabile il testo unico 175 e il libro, il manuale che hanno curato Roberto Garofoli e Andrea Zoppini due persone di grande valore che non devo dire io chi sono e che hanno dimostrato nell'attività professionale in tutti i campi la loro capacità è assolutamente indispensabile per provare a spiegare a dare un'indicazione diciamo sistematica di una normativa che comunque era molto attesa una normativa che era molto attesa proprio perché il tema degli abusi nell'utilizzo della società pubblica e lo dicono con chiarezza nei saggi iniziali sia Giulio Napolitano sia Bernardo Mattarella è uno degli elementi che è stato tenuto presente per una riforma una riforma che va nella logica che diceva lei Presidente Amato nella logica di una riduzione nella logica della idea che le società pubbliche devono essere utilizzate solo in quanto indispensabile nella logica che le società pubbliche non devono essere così come erano diventate uno strumento lo dice Giulio Napolitano nel suo bellissimo saggio iniziale utilizzato per sottrarsi a una serie di vincoli pubblici che riguardavano la fase di approvvigionamento dei beni la fase diciamo che riguarda l'assunzione del personale ma in generale tutta una serie di regole connesse all'evidenza pubblica il decreto 175 nasce sicuramente in questa funzione certo nasce forse con un obiettivo eccessivamente diciamo entusiastico tanto da utilizzare l'idea del testo unico in realtà tanto testo unico non è perché contiene semplicemente le norme di deroga al regime delle società private ma che prova a dare un quadro di carattere generale soprattutto a indicare una sistemazione di dove finisce il pubblico e dove comincia veramente il privato con una distinzione che io credo sia particolarmente utile ed interessante cioè la distinzione fra le società controllate e le società in house all'interno del quadro delle società controllate e sulle società in house viene in libro un saggio particolarmente interessante che evidenzia anche una serie di problemi che come ANAC ci stiamo ponendo in questo momento che è entrato in vigore l'elenco delle società in house dicevo le società controllate le società in house che di fatto sono pubbliche amministrazioni o in gran parte pubbliche amministrazioni che sono sottoposte a regole più di tipo amministrativo per le quali le regole privatistiche sono assolutamente diciamo eccezionali lì dove invece per le società meramente partecipate per le quotate riespande in gran parte tutto l'armamentario delle regole del codice civile il manuale in questo senso prova a fare una chiarificazione di tutte le indicazioni contenute nel decreto 175 ovviamente provando ad affrontare le tematiche per esempio che riguardano il fallimento tema che era stato una delle questioni più rilevanti che si erano sottoproposte come sottoporre quali sono il sistema delle società e dei controlli da effettuare nei confronti delle società pubbliche ma sicuramente con una ottica che in questo ha ragione Presidente Amato è soprattutto un'ottica di tipo economico cioè l'idea del taglio delle società pubbliche che ricordiamolo era stato teorizzato in uno dei rapporti che venne fatto sulla spending review uno dei principali rapporti quello dell'economista Carlo Cottarelli che evidenziò come una condizione sine qua non per la riduzione delle spese pubbliche una riduzione numerica delle società pubbliche in questa prospettiva va il decreto legislativo 175 la cui attuazione dipenderà ovviamente dalla capacità reale di verificare quello che faranno soprattutto gli enti locali il bel saggio di Roberto Garofoli di introduzione ci dà atto anche già di un'attività di monitoraggio meritoria che è cominciata da parte del ministero dell'economia ma è chiaro che la possibilità che questo decreto diventi un fatto reale dipenderà dall'implementazione della normativa e qui nel chiudere veramente questa brevissima rispettando i termini imposti dal presidente Patroni Griffi due segnalazioni anche un po' di limiti alcuni limiti di una normativa che proprio perché testo unico avrebbe forse diciamo meritato di essere davvero più testo unico nella normativa per esempio non vi è affatto la normativa che riguarda l'attività relativa alla prevenzione della corruzione malgrado le società in controllo pubblico siano di fatto pubbliche amministrazioni e bisogna andare nel testo unico nel decreto legislativo 97 del 2016 per trovare questa normativa che prevede l'estensione alle società in controllo pubblico delle regole della 190 del decreto legislativo 33 del 2013 e del decreto legislativo 39 cioè le regole in materia di trasparenza e in materia di inconferibilità e incompatibilità e qui aggiungo un ulteriore passaggio il decreto legislativo 175 aggiunge numerose ipotesi di incompatibilità molto corrette che tendono diciamo a migliorare l'immagine e l'onorabilità dei soci e degli amministratori delle società pubbliche però si dimentica di stabilire chi dovrà rilevarle questa incompatibilità a noi è già capitato di essere stati interessati per alcune ipotesi di incompatibilità e di aver dovuto declinare la responsabilità preparando una segnalazione che è stata inviata pochi giorni fa a governo e parlamento in cui si segnala che si introducono diciamo norme più o meno draconiane senza stabilire chi materialmente dovrà attuarle e questo è un limite di questa normativa che per il resto invece va valutata positivamente ma valutata positivamente anche nella parte in cui esclude l'applicabilità assoluta del sistema del decreto legislativo la tendenziale assoluta inapplicabilità del decreto legislativo alle società quotate società quotate che proprio perché per essere sottoposte a un regime pubblicistico specifico delle società quotate in borsa ovviamente non è necessario che siano sottoposte anche a regole di tipo pubblicistico diverso e qui però un'ulteriore e ultima segnalazione critica il concetto delle società quotate previsto dal decreto legislativo 175 è molto ampio troppo ampio perché prevede e parifica le società quotate quelle che hanno emesso titoli entro il 31 dicembre 2015 e così si è creato un meccanismo di deroghe nelle quali in realtà la ragione che giustifica l'applicabilità delle società quotate ha poco senso nei confronti di quelle società che hanno emesso strumenti finanziari sostanzialmente obbligazioni che non prevedono nessuna specifica indicazione di meccanismi di controllo di tipo pubblicistico in conclusione un ringraziamento a Roberto e Andrea per il libro che rappresenta uno strumento fondamentale per lo studio uno strumento che consente diciamo una lettura complessiva di una materia che merita di essere sedimentata anche nell'applicazione perché le norme creano in più di una parte filo da torcere ma il giudizio positivo oltre che sul libro su una normativa che va nella diciamo direzione giusta che è quella che lei auspicava cioè che le società pubbliche facciano quello che devono fare le società pubbliche cioè occuparsi di economia con l'approccio tipico del pubblico e non utilizzando la forma del pubblico semplicemente per aggirare le regole che il pubblico deve rispettare 34 coautori 5 saggi introduttivi 7 parti 23 capitoli un libro intitolato manuale ma che potrebbe essere intitolato trattato un libro che io penso che sarà di sicuro successo su un decreto legislativo di certo insuccesso e vi cercherò di spiegare anche perché le ragioni dell'insuccesso della norma saranno le cause del successo del libro io farò come i miei predecessori un discorso che riguarda è il libro è il decreto e comincio dal decreto e comincio naturalmente dal titolo del decreto come voi sapete è un testo unico in materia di società a partecipazione pubblica prima domanda ma è un testo unico se si legge il testo si scopre che ci sono su circa 30 articoli 5 norme che rinviano ad altre norme e poi vi sono delle norme draconiane che però sono derogate da deroghe ed eccezioni compiacenti per esempio la possibilità di esclusione totale parziale dall'articolo 4 con decisione del presidente del consiglio dei ministri o del presidente della regione quindi in sostanza noi siamo in presenza di un testo unico che essendo intitolato testo unico dice di se stesso non sono un testo unico perché fa rinvio ad altre norme e questo è dimostrato dal dal trattato sulle società partecipazione pubblica perché tutti gli autori del trattato diligentemente hanno ricostituito il tessuto su cui si va a inserire questa piccola pezza che è il cosiddetto testo unico se voi leggete il manuale che io chiamo trattato della società partecipazione pubblica noterete che c'è una quantità di altre norme che bisogna necessariamente applicare insieme con il cosiddetto testo unico la seconda domanda è ma il testo unico riguarda davvero le partecipazioni pubbliche allora l'articolo 1 del cosiddetto testo unico dice come è stato appena ricordato che le disposizioni del decreto si applicano solo se espressamente è previsto alle società quotate e come avete appena sentito si intendono per società quotate quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati quelle che hanno emesso entro il 2015 strumenti finanziari diversi delle azioni quotate e le società partecipate dalle une e dalle altre vi posso dire per semplicità che il solo articolo 9 gestione delle partecipazioni si applica espressamente anche alle società quotate ora l'Enel l'Eni la società Leonardo Poste Enav Cassa Depositi e Prestiti Credo FS sono tutte sottratte all'applicazione del decreto sulle società con partecipazione pubblica in sostanza il decreto partecipato non riguarda lo stato azionista riguarda esclusivamente le minori partecipazioni pubbliche tant'è vero che l'autore del saggio che riguarda questa materia Tola a pagina 313 e 314 dice è chiaro che ci sono due diversi statuti lo statuto delle quotate e assimilate che non sono toccate da questo decreto e lo statuto di quelle che sono invece incluse nell'ambito di applicazione del decreto oserei aggiungere che il draconiano decreto è stato possibile in quanto le maggiori partecipate ne erano fuori solo grazie all'esclusione si è potuto fare si è potuto adottare queste norme draconiane e quindi sostanzialmente se si parla del decreto non si parla delle società partecipate dallo Stato ma si parla sostanzialmente delle partecipazioni minori non finiscono qui i motivi della mia critica a questo decreto perché si aggiunge a questo il problema dell'oggetto e del risultato che ottiene questo decreto l'oggetto innanzitutto è molteplice perché sono ammucchiate in questo decreto norme che riguardano le società partecipate le società controllate le società in house norme diverse le società soggette a regimi speciali quelle derivanti da una sperimentazione gestionale e quelle con partecipazioni locali e l'insieme di queste norme contenute nel decreto riguarda il partecipante la partecipazione il soggetto partecipato e l'impresa si potrebbe dire come detto in uno dei saggi iniziali che contiene la disciplina delle sole norme pubblicistiche il problema fondamentale è che non contiene tutte le norme pubblicistiche e non contiene tutte quelle ibridazioni tra norme pubblicistiche e norme privatistiche che danno luogo ad un altro diritto che è un diritto misto per così dire tra pubblico e privato qual è il risultato? appunto una sorta di ibridazione dove sostanzialmente ci sono duplicazioni c'è una revisione interna c'è una revisione esterna c'è una responsabilità civile c'è una responsabilità per danno arariale c'è una separazione contabile societaria di un certo tipo quella di diritto comune e quella di diritto speciale come sempre quando si abusa del diritto privato e si cerca di intervenire con strumenti pubblicistici sul diritto privato si finisce per perdere i vantaggi del ricorso al diritto privato e di aggiungere soluzioni complesse che frapponendo ostacoli sostanzialmente creano un impedimento che impedisce l'utilità del ricorso alla formula privatistica per le società che dovrebbero veramente utilizzare il diritto privato ed essere gestite come imprese e per quelle inutili non creano ostacoli sufficienti per impedirle quindi massimizzano il danno questo secondo me è la conclusione per cui io penso che questo darà luogo a un'infinità di controversie a cui si stanno già preparando tanti studi professionali legali locali perché questo riguarda un tessuto diffuso in tutto il paese e tutto questo è dimostrato da tanti elementi uno è per esempio il tentativo che fanno le società di sottrarsi io conosco dai giornali per esempio che in quella Repubblica indipendente che è sempre Siena c'è una società Fises che ha già dichiarato a suo tempo che non intende assolutamente applicare l'articolo 4 il secondo è il tema dei rinvii l'abbiamo letto tutti quanti sui giornali quante volte è stata rinviata l'applicazione ora il tema dei rinvii è importante guardate bene perché molti di noi e non c'è bisogno di avere più di 60 anni ricordano l'ex Gil il fascismo era finito da tanto tempo e si stava ancora amministrando Gil è gioventù italiana del Littorio per quelli più giovani insomma ecco si stava amministrando la chiusura della gestione dell'ex Gil e poi c'è il problema dello stesso calcolo del numero quell'importante ufficio che è stato creato dal senato recentemente che si chiama ufficio valutazione impatto nel settembre del 2017 quindi non alcuni secoli fa ha pubblicato un bel documento che è intitolato partecipate pubbliche perché finora non si è riusciti a completare il censimento va bene e se voi vedete le statistiche perché ci sono anche statistiche dell'istat che ha un apposito ufficio su questa materia che le cifre sono oscillanti oscillano tra 8.000 e 12.000 non è una differenza di poco conto questa differenza tanto che si creano dei dubbi e noi siamo abbiamo letto il 15 febbraio che il ministero dell'economia e finanze meglio la direzione ottava del dipartimento tesoro applicando l'articolo 15 comma secondo ha già emanato i primi orientamenti niente po' di meno che sulla nozione di società a controllo pubblico voi capite bene a che punto siamo noi abbiamo un decreto legislativo che riguarda le società a controllo pubblico e dobbiamo aspettare che ci siano gli orientamenti quel soft local le piace tanto presidente Cantone degli orientamenti degli orientamenti della direzione della direzione ottava del dipartimento del tesoro del ministero dell'economia e finanze per chiarire la nozione di società a controllo pubblico discutiamo ancora di questo insomma se io dovessi riassumere tutto quello che è accaduto con questo decreto si potrebbe riassumere con un'espressione che ha utilizzato il figlio di Ludovico Mortara si chiamava Giorgio Mortara ed era un grande statistico quale disse una volta che ogni decisione di politica in Italia si poteva riassumere così occhi chiusi e botte da orbi questo è un decreto fatto così occhi chiusi e botte da orbi questo è una materia delicata nella quale noi sappiamo da una ricerca fatta da due bravi economisti che preso un campione di 1200 imprese italiane con più di 50 addetti le imprese controllate da enti pubblici sono significativamente riassumo la loro conclusione meno produttive delle corrispondenti imprese private dello stesso settore quindi è una cosa che dovrebbe preoccupare tutti il fatto che ci sia questa significativa differenza e tutto questo è dimostrato dal libro di commento sui casi di frontiera ne voglio prendere tre per chiudere primo il saggio di Cuccu per esempio che riguarda il problema dei compensi agli amministratori perché voi saprete che nel decreto c'è scritto che appunto non si segue il diritto privato ma si applica quella regola che prende come parametro un certo criterio fissato dalla Costituzione per il Presidente della Repubblica non si capisce perché debba esserci sempre quel riferimento al Presidente della Repubblica anche per l'amministratore delegato di una società e l'autore giustamente del commento dice beh ma noi qui siamo in presenza di una semi-amministrazione semi-amministrazione sarebbe questa l'impresa pubblica una semi-amministrazione e allora che l'abbiamo fatto a fare le imprese pubbliche contentiamoci dell'amministrazione riportiamo le ferrovie ad azienda autonoma come erano agli inizi del secolo nel disegno di Giolitti di Giovanni Giolitti il seggio di Bonura sull'alienazione delle partecipazioni pubbliche un altro buco nero nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione e quali sono questi principi e poi il comma 4 dice che fa salvo per le partecipazioni dello Stato e le altre partecipazioni che sono pubbliche ma non sono dello Stato si applicano o non si applicano quando si deve dismettere che bisogna fare quale procedura bisogna seguire non ce lo dice il testo unico per non parlare delle osservazioni che riguarda che fa Fratini con una T sola nel commento a pagina 693 dove parla delle società pubbliche e si interessa dello spazio lasciato alla Corte dei Conti che in qualche modo interviene e quindi aggiunge la responsabilità dell'area pubblicistica alle responsabilità privatistiche degli amministratori di sue operazioni io come vedete ho detto tutto il bene possibile del libro e ho detto tutto il male possibile del decreto ma devo dire anche un po' di male del libro nel libro secondo me mancano gli indici per materie finali e per autori e io penso che gli autori di ogni manuale hanno un obbligo nei confronti dei lettori con questo tipo di indici manca una riproduzione del testo del testo unico e manca e qui ritorno al discorso che faceva Giuliano prima manca manca la storia manca la prospettiva insomma dico ci siamo di menti e questo libro è scritto come se non fosse esistita un problema sul quale molti hanno dedicato dei libri al quale molti hanno dedicato dei libri che era il sistema delle partecipazioni statali nell'area dei servizi pubblici cioè la fusione tra la disciplina delle partecipazioni statali e dei servizi pubblici pensate le società di navigazione aerea la società di navigazione marittima questo ha dato luogo ad una discussione molto ampia che in qualche modo passa sullo sfondo anche nonostante qualche saggio iniziale interessante dal punto di vista storico di quelli che hanno commentato specificamente voglio finire con un piccolo ricordo storico nel 1953 54 si pose lo stesso problema che si è posto agli autori di questo decreto della legge di delega e di questo decreto a quell'epoca si chiamava riforma dello statuto dell'Iri perché a quell'epoca quasi tutto stava nell'Iri e venne avanzata una legge c'era a quell'epoca un presidente della repubblica che aveva l'abitudine di non esternare ma di mandare degli appunti va bene degli appunti ai ministri e quel presidente della repubblica parlo di Luigi Einaudi il giorno 19 dicembre 1954 scrisse al ministro competente il problema non è abbastanza istruito per quanto riguarda l'opinione del Parlamento e quella del pubblico in generale un provvedimento presentato oggi su quella base non potrebbe essere discusso ex informata coscienza chi legga le relazioni e non abbia per conto suo prima avuto qualche informazione in materia non può dire di conoscere il problema scusate vi debba aggiungere una cosa che questo non è solamente pubblicato a questo appunto nello scrittorio del presidente Luigi Einaudi ma è stato pubblicato anche all'inizio del primo volume dei tre volumi famosi libro bianco su Liri che tutti conoscono con la firma di Bruno Villabruna che era se non ricordo male il ministro dell'industria il quale come premessa al rapporto alla Malfa perché poi questo dette luogo al rapporto alla Malfa pubblicò quasi integralmente questo appunto che finiva diceva Einaudi è inutile illudersi che senza questa informazione preventiva l'opinione pubblica e quella parlamentare possono apprezzare un qualunque disegno di legge il quale fosse approntato non dico per risolvere ma per fare qualcosa di vantaggioso intorno al problema del Liri che cosa dette luogo a che cosa dette luogo questo appunto questo dette luogo appunto alla costituzione della commissione la Malfa sto parlando di Ugo la Malfa naturalmente che procedette nel senso opposto a come si è proceduto col decreto cioè andò a fare un'analisi una per una delle società e invece di calare con un atto legislativo su realtà completamente diverse dopo aver fatto quest'analisi propose un riordino che poi trovò luogo qualche anno dopo con la costituzione del ministero delle partecipazioni statali ecco io penso quindi che sia perduta una grossa occasione per seguire quella linea che suggeriva Luigi Inaudi cioè in un partire con delle belle leggi che sono calate dall'alto su realtà completamente diverse fatte comunque escludendo diciamo la verità il 90% delle partecipazioni statali dal punto di vista economico perché quando voi escludete tutte le società che vi ho elencato voi capite bene che quel decreto sulle società partecipate pubbliche riguarda giusto quella società di Siena e quindi praticamente costringe a ricominciare da capo certo io senza avere la qualità critica analitica del professore Cassese mi ero appuntato mentre parlava ma c'è un problema di fondo fino a che punto il regime speciale e derogatorio può spingersi per non rinnegare la scelta politica cioè ha senso che io scelgo uno strumento privatistico e poi ci metto tanti paletti per cui con lo strumento diventi riconoscibili allora a questo punto in questi casi non sarebbe meglio studiare meglio e modificare le forme organizzative di diritto pubblico e questo è quello che mi chiedo come dire ogni tanto allora il collega Franco Frattini grazie grazie molte per questo invito grazie perché mi dà la possibilità di grazie molte perché mi dà la possibilità di svolgere queste mie brevi riflessioni partendo diciamo così dalla cornice ovvia in cui il decreto 175 e anche il correttivo numero 100 del 17 che è correttivo del primo si muovono direi dichiaratamente e doverosamente intendo i principi dell'Unione Europea e dell'Ox per poi scendere non per dovere di istituto a qualche criticità oltre a quelle che ha rilevato Sabino che già il Consiglio di Stato nella Commissione speciale che ebbe l'onore di presiedere la prima, la seconda l'ha presieduta il collega Carbone mettemmo in evidenza e che potrebbero condurre se ascoltate a qualche intervento non necessariamente un altro correttivo a me non piacciono molto i correttivi a cascata ma qualche azione per cercare diciamo così di mitigare quei problemi molto seri che sono stati appena evocati. Allora se guardiamo i grandi principi europei anzitutto in questi principi in fondo c'è tutto quello che ci dovrebbe essere in una buona normativa nazionale in materia. Ricordo il primo principio, voi sapete bene che l'Unione Europea ha sempre affermato il principio di neutralità rispetto alla natura privata o pubblica dei soggetti societari ma ha immediatamente precisato che questa neutralità non significa affatto indifferenza ad esempio rispetto alle regole di concorrenza che tutti debbono osservare. c'è una sentenza che mi sono riletto ed ha notato una sentenza dell'83 in cui l'Italia ricorreva contro la Commissione Europea e la Corte di Giustizia affermò questo principio che credo abbia una prima conseguenza molto chiara e la prima conseguenza è che un articolo puntuale del trattato chiede agli stati membri che tutte le imprese pubbliche e tutte le società a partecipazioni pubbliche abbiano il rispetto pieno di concorrenza e non discriminazione. Questo direi è un pilastro rispetto al quale certamente non si può retrocedere. Ne derivano dei corollari. Il corollario più importante è il corollario secondo cui le regole che ci riguardano società a partecipazione pubblica e le deroghe rispetto al regime ordinario dicono le istituzioni europee nelle loro direttive nei loro regolamenti sono regole di stretta interpretazione. Questo per noi giuristi è un altro principio fondamentale. Apro e chiudo una parentesi su cui tornerò. Il regime delle società in aus deve essere strutturato secondo quel criterio di stretta interpretazione che impedisca una possibilità di dilagare o di derogare ma anche e questo è un qualcosa che manca non in questo decreto ma nel nostro sistema oggi una disciplina unitaria dell'inaus. Voi sapete che ci sono norme sparse nel codice appalti, nel correttivo appalti, nel testo unico delle società a partecipazioni pubbliche. Questo rispetto all'obiettivo unificatore della normativa europea è un qualcosa su cui certamente bisogna riflettere. Il secondo pilastro che ci aiuta a capire anche ciò che eventualmente non funziona nella norma nazionale è il principio di trasparenza. Le istituzioni europee, le regole europee lo interpretano in molti modi e non solo attraverso le discipline dei controlli ma lo interpretano dettando regole chiare sull'accesso e sulla possibilità di verifica preventiva. Esempio, nel momento in cui si parla di una società a partecipazione pubblica è chiara l'attenzione alla trasparenza piena di tutto ciò che riguarda il ripiano delle perdite di esercizio. Sintomi ma importanti, i conferimenti a fondo perduto, i prestiti a condizioni più favorevoli e ovviamente ancor più la compensazione di oneri doverosi. Questi sono tutti sintomi di sistemi derogatori su cui le norme europee sottolineano una necessità di render noto, di disclosure, di full disclosure e questo è anche un aspetto su cui oggettivamente bisogna guardare. Perché? Perché l'Unione europea ha fatto un regolamento. C'è un regolamento del 2014 che ovviamente gli addetti ai lavori conoscono perfettamente che con grande chiarezza ritiene che la disciplina sugli aiuti di Stato è pienamente applicabile ai soggetti a partecipazione pubblica qualora le decisioni prese siano imputabili all'amministrazione pubblica che comanda. Allora l'estensione se e senza mami verrebbe da dire fatta con questo regolamento 651 è un altro sintomo di quanto sia rigoroso il principio da un lato di trasparenza e conseguentemente di controllo. Perché questo? Perché il regolamento giustamente dice che queste risorse di cui si discute sono risorse che ai sensi del 107 del trattato sono risorse dello Stato. Quindi sono denaro pubblico dei cittadini. Ecco perché la disciplina si deve estendere secondo pilastro europeo. Sappiamo e certamente si deve anche all'impegno del ministro Paduan che il country report del 2017 su questa riforma ha speso parole di incoraggiamento. Ma ha segnalato un punto su cui verrò immediatamente perché è un punto che traggo dalla storia delle raccomandazioni dell'Ox. Il country report nel dire questo provvedimento va nella direzione necessaria ha un warning importante. L'attuazione, la mancata completa attuazione nel tempo, la necessità di verificazione dei risultati. Questo è un caveat. Quando è uscito il report la legge, la norma era troppo giovane. Ma è un punto su cui adesso subito entro perché nella storia dell'Ox questo criterio che parte dalle linee guida del 2015 che ancora una volta non ripeto e non cito perché solo nel titolo perché gli addetti ai lavori le conoscono dice con grande chiarezza che occorrono alcune cose per consentire una piena attuazione delle riforme e poi lo dice in particolare per questa riforma. Un tema di cui pochi parlano. Gli stati membri debbono grandemente rafforzare la professionalità dei soggetti pubblici azionisti che poi maneggiano queste regole. Se non c'è una professionalizzazione all'altezza dell'evoluzione rapida delle norme noi rischiamo di trovare norme che il personale o i soggetti anche azionisti anche partecipati che le debbono applicare non sanno applicare. Questo tema è importante così come è importante è che sempre principio pilastro oxe la partecipazione societaria pubblica deve essere giustificata. Il presidente Amato ha parlato di una lunga e possibilmente probabilmente complessa motivazione che ci sarà quando i provvedimenti saranno adottati. In modo molto semplice e grafico l'Ocse ci dice due parole rendere pubblica una ownership policy spiegare qual è la politica che sta dietro qual è la visione e questo francamente in una motivazione lunga e complessa fatta di tante righe di tanti paragrafi riesce male. La ownership policy è resa pubblica se rende l'idea di che cosa il soggetto pubblico vuole fare usando anche soldi dei cittadini e lavorando sul mercato. L'altro parametro e qui vengo alle frasi che sono state agli esempi che Sabino che il professor Cassese ha ricordato è pilastro oxe evitare interferenze in debite della politica sugli amministratori. Questo è un parametro oxe non è una wishful thinking è un principio chiaro. Allora quando si usano le parole forti non di Sabino ma dell'ex presidente di Confindustria insomma metterci persone che sono state bocciate dagli elettori e che poi si mettono lì per eseguire ordini dei partiti è una violazione piena di questo principio dell'oxe che ho ritenuto direi importante ricordare. C'è un terzo parametro che l'oxe segnala e che ci sta tutto o ci dovrebbe stare tutto in una normativa nazionale. I due principi connessi la parità concorrenziale tra soggetti pubblici e soggetti privati e questo deriva dai trattati e la non discriminazione in fondo è la traduzione nelle raccomandazioni dell'oxe e il rispetto di tutti gli azionisti perché è chiaro che la golden share in queste raccomandazioni dell'oxe diventa un'eccezione e non può mai essere la regola. Da tutto questo io traggo una considerazione che direi usando un'espressione civilistica i doveri di uno stato membro di tradurre questo complesso europeo e oxe in norma nazionale non è un obbligo di mezzi è un obbligo di risultato e cioè deve portare a risultati tangibili e visibili non basta la norma ma come e qui comincio il richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato non basta la norma ma occorre che la norma sia credibile attuabile e pienamente implementabile altrimenti l'obbligo di mezzi è assolto l'obbligo di risultato non è assolto e quindi siamo in quella che noi potremmo chiamare una illusione sostanziale dei principi anche se c'è un rispetto formale. La fase cruciale dell'attuazione è inutile che io mi soffermi su questo voglio solo dire che si usa poco in Italia sempre non solo qui ma anche qui un duplice strumento è il professor Cassese da ex ministro della funzione pubblica ci ha lavorato come ci ho lavorato io quando sono stato sulla nella stanza che lui ha occupato assai più degnamente di me l'analisi d'impatto della regolamentazione e la valutazione d'impatto della regolamentazione. Questi sono principi trasversali quante volte vediamo uno schema di decreto che arriva senza l'air non si dice nulla se non il provvedimento è necessario qualche volta si dice perché è un obbligo europeo ma non spieghi quali sono le conseguenze e soprattutto vogliamo fare un monitoraggio che porti periodicamente a valutare il primo triennio il primo quinquennio di applicazione per capirne le criticità. Questa costante regola di valutazione e monitoraggio noi l'abbiamo ripetuta tante volte nelle nostre decisioni ancora francamente la vedo un po' carente. quali altri punti vedo ancora aperti e qui passo alla parte propositiva diciamo così il rischio che si pensi di risolvere questi problemi con una serie di correttivi a cascata lo abbiamo visto nel codice appalti Filippo noi siamo oggettivamente e il presidente Cantone lo sa bene abbiamo fatto di tutto inseguendo il correttivo e il correttivo del correttivo la cascata di correttivi spesso peggiora norme che arrivano troppo presto per aver valutato l'impatto applicativo e quindi si pensa di aver corretto bene e poi scopriamo che dobbiamo ricorreggere allora evitiamo la serie di correttivi a cascata mi permetto di dire il 100 del 2017 doveva venire incontro a una sentenza della Corte Costituzionale è chiaro ma poteva non limitarsi a questo forse inserire qualcos'altro ha introdotto una norma a mio avviso pure peggiorativa del testo iniziale l'ha citata Sabino Cassese noi avevamo espresso parere negativo rispetto alla norma che dà al presidente del Consiglio il potere di dare con suo decreto la deroga totale o parziale in assenza di predeterminazione con legge oggi il correttivo la dà al presidente regionale il che vuol dire che un presidente regionale impinge con suo decreto su normativa statale questo francamente è forse un peggioramento o un aggravamento della situazione. Penultimo punto su cui voglio soffermarmi è quello apparentemente marginale ma che qualche significato ce l'ha. Io credo che accanto al concetto di servizi di interesse generale si sarebbe potuto forse richiamare i servizi di interesse economico generale che non sono la stessa cosa e che non lo siano lo conferma il fatto che nel decreto servizi di interesse economico generale ha una sua definizione nell'articolo definizioni poi nel dispositivi non ci sta si perde allora si è volutamente pretermesso è sfuggito e certamente l'interesse economico generale a differenza dei servizi di interesse generale è un po' una cosa diversa sono quelle attività di impresa sul mercato che per la loro mission devono garantire obblighi di servizio allora è un po' diverso dai servizi di interesse generale la criticità relativa alla deroga del presidente del consiglio l'ho già detta pongo un problema che non è per l'oggi ma certamente è per il domani del parlamento e per il domani del governo il tema della partecipazione con valorizzazione del patrimonio mediante conferimenti immobiliari io qui trovo una criticità e la criticità la pongo con due domande quali tipologie di beni pubblici sono interessati ovviamente non possono essere i demaniali non lo possono essere i patrimoniali indisponibili e soprattutto quali attività possono svolgere le società conferitarie nella norma non si specifica molto allora la preoccupazione ci può essere che profittando di questa valorizzazione del patrimonio si moltiplichino i soggetti a partecipazione pubblica che invece lo spirito della norma apprezzato dall'Europa è di ridurre non di moltiplicare l'ultimo punto che pongo è il punto del coordinamento interno ha ragione il professor Cassese probabilmente la natura e la natura sostanziale di testo unico deve essere un pochino più rafforzata attraverso quel profilo che chiamerei di unificazione di ambiti normativi ho già citato l'inaus ma l'inaus non è secondario perché noi ci troviamo negli appalti a trovare varie incongruenze tra la normativa di questi decreti e la normativa dei codici degli appalti e questo ci pone un problema la mia conclusione quindi è che più che nuove norme più che nuovi correttivi tanto monitoraggio professionalizzazione degli operatori che dovranno applicare queste norme e poi certamente per migliorare l'efficienza andare alla riduzione del numero come ha detto Sabino Cassese ma qui ci vuole una leadership politica particolarmente forte perché io immagino senza poterlo dire ora che forse ci saranno nel prossimo Parlamento quello che sta entrando pulsioni ancora più forti a mantenere l'azionariato pubblico specialmente degli enti locali e non a ridurlo grazie certo qui mi fanno sorgere domande naturalmente un'altra domanda di fondo che Franco mi ha fatto venire in mente è a proposito della giustificazione della scelta di intervenire c'è il solito dilemma l'assunzione delle partecipazioni o la costituzione della società serve a correggere o a sostenere il mercato o serve come dire a gareggiare nel mercato salvo talvolta a creare interferenze pesanti sul mercato perché in effetti questo è lo stesso dibattito che si pose anche al problema dell'Iri all'epoca delle assunzioni dell'Iri ma entrambe le cose non dimentichiamo che Mattei volle interferire con una concorrenza inadeguata sul mercato e per questo insomma quindi possono essere entrambe le cose purché facciano parte di un disegno qua è il disegno che non c'è professore Marchetti grazie grazie sono molto onorato di questo invito e mi scrivo al partito di maggioranza di questo tavolo per tessere anzitutto le lodi del volume il professor Cassese non ce l'avevano sentiti ma io ho scritto manuale ma io direi piuttosto trattato perché effettivamente non è un commentario articolo per articolo ne sono citi tanti ma è un contributo che spazia ampiamente e direi inquadra gli istituti andando anche al di là di quello che poi è la portata del decreto con molti spunti almeno dal mio punto di vista per esempio in materia societaria in generale ma in tante altre materie quindi è un libro è un buon trattato oltretutto dopo quello che si è sentito di critica anche molto coraggioso perché effettivamente è un trattato coraggioso ma qui mi abbandono subito la maggioranza per dire che mi trovo in una posizione di minoranza minoranza l'unico immigrato anche se dal nord qui a Roma insomma immigrati si sa com'è minoranza perché non ho sono un commercialista non ho le competenze le esperienze pubblicistiche e amministrativistiche ma minoranza perché io francamente non mi sento di lapidare questo provvedimento in un modo così radicale probabilmente perché per miei difetti di formazione e di approfondimento ma innanzitutto io trovo molto positivo che non si sia intervenuti sulle società quotate con una partecipazione pubblica meno male che non si è intervenuti sulle società quotate in mano pubblica anche perché diciamocelo francamente Giuliano ha perfettamente ragione scorriamo il listino e molte delle perle del nostro listino sono imprese ex pubbliche forse ancora pubbliche e quindi insomma sia nazionali sia locali io vengo da una zona dove è contata una ex municipalizzata nell'energia che unificandosi con quella di altre città ha fatto fa benissimo la sua parte anche sul mercato quindi a mio avviso il fatto che ecco il fatto che non si sia toccato questo settore delle società quotate ci mancava altro che si avesse nel panorama delle società quotate italiane dei regimi particolari minchiolistici per società larghissima azionariato che stanno bene che funzionano bene che sono apprezzate dagli investitori istituzionali e allora se c'è una cosa che mi preoccupa se volete è la norma mi sembra non so l'articolo 18 che dice che sì le società a controllo con partecipazione pubblica possono anche decendersi di quotarsi con quel meccanismo del provvedimento eccetera eccetera ma devono subito fare un programma in cui l'azionista pubblico rassicura che immediatamente dismetterà il controllo e quindi sarà uscirà e sarà e scomparirà come socio di controllo con i tempi che corrono quando per controllo si giunge a ritenere una partecipazione di fatto che riesce ad avere il maggior numero dei consiglieri di amministrazione perché la lista che arriva prima quella degli investitori istituzionali non presenta una lista completa e quindi fa subentrare la seconda questa prospettiva francamente mi preoccupa perché vuole dire così una prospettiva di abbandono di questo settore e allora la portata forse io la vedo molto più limitata è una portata di riordino in questa selva in cui tu non ti ci ritrovi e anch'io mi ci ritrovo poco perché non ho molto frequentato diciamo di topolini che hanno rosicchiato un formaggio prendendo il posto da alcuni forse giganti forse invasivi deviati ma che tutto sommato la loro parte l'hanno fatta con una certa poi devo dire anche questo se voglio qui accodarmi a qualche e iscrivermi a partiti di maggioranza del tavolo critici con una forza ipocrisia perché in realtà poi si dimentica tutto il mondo cassa depositi e prestiti con quello che sta sotto che in realtà ha avuto una capacità di dilattazione molto significativa ma tocco subito un punto più di mia specifica competenza insomma l'ossessione dei commercialisti negli anni 50 quando si facevano i convegni degli amici del mondo si parlava di riforma di ascarelli era lottare contro l'amministrativizzazione eccessiva del diritto societario compreso quello in cui partecipavano imprese con partecipazione pubblica e qui noi non ci rendiamo conto ma negli anni 50 c'era rispetto al codice dell'82 che eliminò l'autorizzazione governativa costituire società la stessa più o meno distanza che c'è fra 50 e adesso quindi era molto vivo poi dopo il periodo fascista eccetera e si affaccia poi l'idea in cui qui abbiamo dei protagonisti Giuliano Amato quello di mettere a disposizione la forma privata come terreno di benchmark di efficienza come terreno di trasparenza come terreno di comparabilità delle imprese senza allora dire che non dovevano avere la maggioranza anche se mi ricordo che il presidente Sampi di fronte a questa obiezione dice guardi non abbia preoccupazione poi il motore si mette in moto e vedrà che alla fine si arriverà al fatto che le fondazioni bancarie ad esempio non possono più avere la maggioranza ecco io credo che questo filone tutto sommato abbia dato buoni risultati e che qui è ancora utilizzato tutto sommato noi abbiamo il lungo questo filone e prendo l'estremo delle società in house delle aziende in fondo che hanno la forma privatistica e che paradossalmente utilizzano degli strumenti di diritto societario che le società a controllo pubblico non in house non utilizzano la direzione e il coordinamento per esempio poteri speciali e così via patrimoni separati azioni correlate eccetera quindi allora cominciamo a trarre da qui le lodi al legislatore che fece la riforma societaria bipartisan perché nacque con un governo di centro-sinistra e poi in sostanza ripreso dal successivo governo di centro-destra che mise un ventaglio di strumenti utilizzabili anche per queste forme e tutto sommato io credo che questo terreno in cui si nutre la disciplina dell'impresa pubblica tutto anche nell'estremo dell'in house tutto sommato porti un contributo non sarà al massimo non sarà l'ottimo un po' darsi che prima o poi si dovrà rettificare eccetera anche sotto profilo della trasparenza delibitare i fenomeni degenerativi di cui si diceva ma detto questo e quindi dovendo se volessi chiedermi ma come cosa ha esportato il diritto commerciale al il diritto societario a questo terreno di confronto sintesi equilibrio fra l'amministrativo al pubblico e il diritto di comune societario direi molto perché ha preso molti istituti però c'è anche il reciproco forse il diritto societario da queste norme dato che poi si deve interpretare tutto sistematicamente e dato che noi sappiamo che dai diritti speciali vengono molti istituti che poi vengono utilizzati anche nel diritto societario in termini generali ad esempio al settore bancario come noto qualcosa c'è a me per esempio abbastanza colpito quel articolo 6 dove si dice guardate che l'impresa a controllo pubblico di certe dimensioni debbano valutare se fare alcune cose regolamenti per attuare per favorire la concorrenza rispetto della proprietà industriale intellettuale controlli interni codice di condotta programmi di responsabilità sociale dell'impresa in conformità alle raccomandazioni eventualmente della commissione dell'Unione europea qui si tocca un nervo molto scoperto attuale della disciplina societaria perché la disciplina societaria delle società quotate applica da quest'anno la comunicazione non finanziaria che deve dire cosa si fa in tema di sostenibilità e in sostanza di responsabilità sociale entra nell'ordinamento legittimate sono entrate le società benefit sul piano sistematico per una grossa impresa questo si dice e quindi da questo punto di vista pur delle società pubbliche che io leggo con un interesse rilevante primario come sono le società che fanno appello al pubblico risparmio in quanto quotate anche non pubbliche perché coinvolgono il risparmio complessivo vengono degli indici a mio parere che anche nell'applicazione del diritto societario comune non vanno non vanno trascurati quindi un fenomeno di importazione di istituti ma anche io trovo qui di abbastanza interessante esportazione alla fine effettivamente devo dire che in questo decreto c'è una se voglio trovare una critica anche qui mi scrivo subito a un partito controcorrente e non me ne vogliano i presenti è quello a volte dell'ossessione maniacale per dei risparmi di costi laddove insomma forse si va a fare dei buchi nell'acqua è il caso evocato dell'amministratore unico ora il fatto di pensare che l'amministratore unico mi fa risparmiare alcune decine di migliaia di euro a prezzo di abbandonare quel sistema di check and balance che è un sistema fondamentale in qualsiasi impresa che voglia anche avere degli anticorpi interni contro deviazioni mi sembra veramente non vorrei usare parole a vanvera un omaggio un po' populistico a modi che forse andrebbe e credo che qui bisognerebbe bisognerebbe non so fare uso delle eccezioni in modo più guardando questa funzionalità è certo sfoltita la selva degli enti di queste topolini che mangiano il formaggio intorno insomma complessivamente quindi io non annovero personalmente questo testo unico professor Cassese tu mi insegni come raramente i testi unici siano veramente testi unici di buchi ne hanno sempre basta pensare i numeri testi unici in materia fiscale che immediatamente tutt'altro che unici sono io non annovero fra cose da buttare della legislatura passata ma tutto sommato fra cose complessivamente meritorie e sempre controcorrente e un po' nel filone che tu ricordavi quello che mi viene da domandarmi è se il fatto di disboscare questa selva di appunto nannerottoli o topolini o animalucci pericolosi e mordaci delle inutili società valga la pena di pagare il prezzo dell'enorme restrizione verso nuovi interventi in forme societarie della mano pubblica che con questo decreto si paga concludendo su un punto specifico che sono perfettamente d'accordo con il presidente Frattini che in sostanza qui si ha una legittimazione di fondi immobiliari col patrimonio pubblico che sì è un terreno che prima di tutto poi viene in genere quotato ma che ha effettivamente bisogno di maggiore definizione e trasparenza perché la non professionalità del socio pubblico rispetto alla professionalità a volte troppo audace del partner privato seppur scelto con tutti i crisi eccetera può essere pericoloso scusate mi manca le minoranze hanno diritto di però ed ora ecco Paola Semirino grazie l'esordio di Giuliano Amato deve dire mi ha ricordato che sono come mai più spesso mi capita da scrivere la categoria dei molto anziani perché ero qui all'encicolvedia Treccani quando ancora l'encicolvedia giuridica era cartacea e anzi avevamo inventato un sistema per rinnovarla e rinfrescarla ogni anno che era quello dei fogli mobili era una borsista era terribile da maneggiare era una borsista e arrotondavo il misero stipendio da borsista facendo appunto parte della redazione dell'encicolvedia Treccani e poi un altro ricordo bellissimo di questo palazzo molto personale ma penso di poterlo comunicare me lo ricordo a qui la presenza di mio marito che mi venne a prendere di corsa un 25 settembre del 1977 nostra figlia nacque il 27 settembre del 1977 più o meno più o meno è una cosa molto molto bella lavoravo con un tale entusiasmo convinta che mia figlia sarebbe diventata poi una giurista a furia di stare qui dentro a studiare Lemmi per l'encicolopedia Treccani quindi ci ritorno sempre con un bel ricordo personale che voglio condividere con voi come voglio condividere con voi una serie di considerazioni su questo testo unico che mi sembra intanto siccimenti in un difficile compito io credo che vada sempre il percorso alla storia per arrivare poi a valutare le cose e il difficile compito ce l'ha detto Sabino Castese qual era detto sempre in termini molto semplici mettere insieme il pubblico e il privato cioè non il diavolo e l'acqua santa ma due realtà molto complicate e tener conto che c'era una materia da riordinare una materia nella quale erano sorte come funghi tutta una serie di categorie di società tra il pubblico e il privato che avevano creato una enorme confusione già nel campo civilistico figuratevi e ne parleremo subito di quello che succedeva nel frattempo nel campo penale tra società partecipate tra società controllate tra società in house tra società di gestione i vecchi enti pubblici economici addirittura l'IRI ci ha ricordato oggi a questo tavolo una parte dei relatori insomma tutta una serie di proliferazioni di graduatorie di partecipazioni del pubblico nel privato e che dall'altra parte pure è stato ricordato a questo tavolo c'erano stati una serie di abusi di queste figure di travestimenti di pubblico nel privato e di privato nel pubblico ai quali andava posto un rimedio e dunque l'opera di riordino e il taglio degli abusi hanno rappresentato il motivo ispiratore di questo lavoro e ovviamente si tratta di un lavoro che impone a noi poveri penalisti che siamo abituati a trattare con le categorie del fatto più che con le categorie del diritto di cimentarci con i difficili concetti della partecipazione del privato al pubblico e con le più complesse categorie del diritto societario riordinando anche noi queste categorie per vedere poi quali siano le conseguenze penali di questo di questo riordino e allora leggendo questo corposo manuale io ho ripercorso la stessa strada che percorsi molti molti anni fa quando scrissi il mio primo volume sulle qualifiche soggettive in materia di diritto penale abbiamo qui un giudice costituzionale che sorride perché consegniamo quel libro insieme per il nostro concorso a cattedra e dunque scrivevamo lui sulla sua materia lavoristica Giulio Prosperetti e io sulla mia materia penale e io leggevo il libro di Maria Teresa Cirenei sulle società a partecipazione statale e partendo da quello mi posi il problema di come dovessero essere qualificate dal punto di vista penale queste forme di intervento dello Stato cioè del pubblico nel privato il tema per il penalista era veramente complesso e le conclusioni e le conseguenze che derivavano dall'aderire alla linea privatistica di prevalenza privatistica o alla linea di prevalenza pubblicistica erano o la prevalenza pubblicistica erano veramente dense di conseguenze molto gravi perché la qualificazione pubblicistica del soggetto che opera all'interno di una società a partecipazione statale o pubblica può comportare l'applicazione dello statuto penale della pubblica amministrazione cioè di uno statuto molto pesante molto robusto con un sistema sanzionatorio estremamente rigoroso mentre la qualificazione invece di tipo privatistico portava e porta all'applicazione dello statuto societario uno statuto più leggero oggi forse reso più severo dalle nuove norme in materia societaria quelle sull'agiotaggio sull'insider trading ma comunque più snello rispetto all'apparato pubblicistico dello statuto penale della pubblica amministrazione e devo dirvi che da quella esperienza e lo ringrazio perché solo degli studiosi seri come Roberto Garofoli e Andrea Zoppini si possono essere ricordati di quel mio primo antico libro che però diede luogo alla prima e forse unica legge Severino che è quella proprio sulle qualifiche soggettive non quella che tutti chiamano così e che come sappiamo la sto condividendo la sto condividendo perché quella quella che chiamate a 190 del 2012 ha avuto due padri e due madri quindi due padri sono qui ma sono gli autori della parte più bella che è quella sulla prevenzione io sulla parte penale e Anna Maria Cancelleri dell'altra parte relativa di competenza del ministero dell'interno quindi condividiamo non ripudio condivido questa questa gestazione e questa bene dicevo quella prima legge Severino nacque veramente da quella idea dall'idea di quel libro ne parlai ad un convegno anche in questo era giovanissimo evidentemente le cose migliori si fanno da giovani si ascoltò questo mio intervento che voleva portare alla modifica dei vecchi articoli 357 e 358 proprio perché non ci consentivano di governare queste nuove realtà a metà tra il pubblico e il privato laddove la giurisprudenza aveva interpretato la qualifica pubblicistica soggettiva come rapporto di indipendenza dall'ente pubblico mentre già la precedente norma ci dava degli indizi sulla necessità di qualificare l'attività ai fini penali su base oggettiva e su base normativa è pubblica l'attività disciplinata da norme di diritto pubblico a prescindere dalla dipendenza del soggetto da un ente pubblico o privato questo scrivevo nel libro qualcuno ascoltò un senatore socialista di cui non ricordo neanche il nome perché all'epoca la politica era ancora più lontana da me di quanto non lo sia comunque generalmente stata nella mia vita mi venne a trovare mi chiese di trasformare quell'idea in una norma e oggi è la norma che dal 92 dal momento della riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione governa il tema della difficile distinzione tra statuto penale della pubblica amministrazione e statuto delle imprese private e allora cercando di applicare quella norma che è rimasta nell'ordinamento e che ha dato luogo ad alcune pregevoli applicazioni giurisprudenziali mi sono chiesta se questo testo unico e le categorie che esso indicano e riordino facilitino o meno il compito del penalista che deve entrare poi sul tema dell'applicazione di uno statuto o dell'altro e devo dire che parlando proprio della disciplina mi sembra che questa disciplina nel tentativo di ridurre gli abusi di uso trasformistico del mezzo societario rispetto al tema pubblicistico ci portino decisamente verso un oriente un orizzonte scusate di tipo pubblicistico perché tutte quelle note che voi avete giustamente sottolineato cioè le modalità di costituzione dell'ente le modalità di gestione delle partecipazioni rappresentano essendo eccezione il regime privatistico dei fronti che ci avvicinano alla qualificazione delle società soprattutto delle controllate verso lo statuto penale della pubblica amministrazione di questo dobbiamo tutti essere consapevoli e dunque portarci di nuovo verso quella fase di moltiplicazione della possibilità di qualifiche soggettive pubblicistiche questa mi pare una conseguenza inevitabile a meno che non riconosciamo finalmente questo come quello bancario come un terzio un genus come da molte parti anche della giurisprudenza e di chi deve applicare con difficoltà queste norme ma in genere le norme che sono tra il versante privatistico e il versante pubblicistico si suggerisce cioè ci sono delle peculiarità dell'intervento dello Stato azionista nel mondo dell'economia ci sono delle peculiarità dell'attività bancaria che possono richiedere forse una qualificazione anche a fini penali di quelle attività e del regime che le deve accompagnare in maniera peculiare credo che questo che sia il testo unico che il manuale che lo commentano ci possano portare verso questo tipo di considerazione che badate bene non spaventa nessuno perché il tema è basta saperlo basta sapere quando tu ti siedi al tavolo del consiglio d'amministrazione di una società partecipata se sei non lo so un pesce se sei un cane oppure se sei un anfibio e oggi mi sembra che ci siano molti anfibbi ma ripeto questo non è il prodotto di questo testo unico è il prodotto di questa commistione tra pubblico e privato che rende difficile il compito del penalista che deve tagliare con l'accetta tra uno statuto ed un altro ed era complicato già dall'inizio o ritorniamo ad uno stato monolitico che governa dall'alto e lascia i privati lo spazio dei privati oppure ogni qualvolta creiamo una commistione avremo il problema della qualificazione a fini penali a meno che non creiamo una categoria a sé stante però rispetto al letto di propuste nel quale non vorrei mai stare di un amministratore di società a partecipazione perché da una parte sei tirato dalla necessità di produrre il profitto con la libertà che richiede lo statuto societario questa volta al quale ti devi ispirare dall'altra sei tirato dalla necessità di osservare una serie di regole molto più burocratiche ovviamente che ti derivano da quell'essere un po' anfibio e quindi appartenere anche alla categoria del pubblico puoi anche commettere qualche errore di passaggio dall'una all'altra categoria non voglio parlare di dolo ma certamente la prevedibilità della norma la chiarezza della norma che ci si può applicare credo che sia un requisito indispensabile per poter svolgere con serenità il proprio lavoro soprattutto quando stai amministrando questo poi è il leitmotiv della giurisprudenza che tende alle qualifiche pubblicistiche del denaro pubblico stai agendo per un interesse che non è solo quello del profitto privato ma è anche quello del perseguire l'interesse pubblico e allora però qui io ho due piccole lampade che ci possono illuminare la strada le trovo e sono l'articolo 6 e l'articolo 19 del testo unico l'articolo 6 comporta la necessità di una contabilità separata per le società controllate per le attività protette da diritti speciali o esclusivi e questo è un tema che mi riporta al mio vecchio light motive dell'andiamo a vedere se le singole attività svolte da una società sono disciplinate in forme pubbliche o in forme private che poi l'approdo di una giurisprudenza sana che per esempio in materia di servizi pubblici ci ha detto che la qualifica pubblicistica si applica laddove ci sia l'ambito di concessione di un pubblico servizio ma che la stessa società l'esempio è quello della RAI che noi facciamo sempre nel momento in cui produce film e quindi non è nel suo diritto di esclusiva sta agendo come una società privata allora il richiamo all'articolo 6 mi fa venire in mente che forse qualche parametro di distinzione il testo unico ce lo dà ci dà la possibilità di verificare quali parti di attività siano disciplinate in forma pubblica e quali invece vadano lasciate alla libertà privata e la stessa cosa direi per la selezione del personale di alcune categorie di società che non vuol dire che in tutte le società di matrice privatistica o a commissione pubblico privata il personale debba essere selezionata con concorsi pubblici così come si fa nell'area del pubblico ma laddove c'è una disciplina speciale ed erogatoria della selezione del personale perché occorre trasparenza perché occorre la comparazione tra soggetti aventi analoghe caratteristiche lì in quel momento c'è un'attività di tipo pubblicistico ed è lì in quel momento che si potrà e dovrà applicare lo statuto penale della pubblica amministrazione ma se quello fosse l'unico momento disciplinato in forma pubblica ne dovremmo trarre le conseguenze perché per il resto la società invece è normalmente disciplinata dalle regole del diritto privato dunque andandoci a scorrere il testo troveremo molte più indicazioni di quelle che vi sto dando queste sono quelle che mi ha colpito di più probabilmente questo lumicino che abbiamo trovato insieme può diventare una grande luce per illuminare le aree pubbliche quelle nelle quali ci sono le famose eccezioni delle quali parlavamo rispetto alle regole tipiche del diritto privato dunque se sapremo correttamente applicare questo strumento che mi rendo conto è uno strumento molto tecnico è uno strumento che ha reso il diritto penale un diritto meritevole di questo titolo di diritto e non più come si diceva un tempo tutto concentrato sul versante del fatto e sapremo correttamente applicare questi principi credo che anche le norme del testo unico ci potranno aiutare a creare questa separazione se dovessimo ritenere che questo non è possibile veramente non ci rimane altra strada che quella di dire beh questo è veramente un anfibio e allora vediamo come lo dobbiamo regolamentare richiedendo tutto questo però delle maggioranze parlamentari molto forti perché qui siamo veramente al cuore del problema quando tocchi delle norme così rilevanti quando tocchi degli interessi così rilevanti come quelli che può avere lo Stato nello scegliere se rimanere Stato o farsi imprenditore scegliendo un modello societario o un modello di intermedio stai facendo delle scelte straordinariamente forti proprio dal punto di vista della politica e delle strategie della politica ahimè quando ci si cimenta nel dibattito parlamentare si scopre si capisce quanto sia difficile portare a compimento un'opera legislativa così come la si era immaginata all'inizio quindi io credo che la fatica del legislatore vada sempre considerata quando si analizzano delle norme e che il tessuto dal quale esse nascono vada sempre accuratamente analizzato grazie allora iscrivendomi per un attimo anche io al partito della minoranza anche in un momento di trionfo delle minoranze tutto sommato vorrei dire che tre vantaggi l'ha avuto questo decreto legislativo il primo è comunque di contenuto di aver tentato un riordino con tutte le difficoltà che Paola segnalava in un settore critico certo riferito essenzialmente alle partecipate locali però è anche vero che quello è forse il settore più critico dal punto di vista politico finanziario il secondo vantaggio è quello di aver dato vita a questo dibattito spero interessante per tutti coloro che erano qui e che vorrei ringraziare anche a nome di tutti i partecipanti a questa tavola rotonda e direi anche a nome dei curatori così come vorrei ringraziare il presidente Gallo e il terzo vantaggio è che probabilmente auspicabilmente potrà fare avere al manuale il meritato successo grazie e buonasera grazie 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 Grazie.